Folla delle grandi occasioni per l'incontro con la scrittrice magrebina Rita Elkayat. La vita delle donne in Maghreb, ma anche in Italia, l'importanza della cultura e dello studio per poter arrivare ad una vera democrazia. Questi alcuni degli argomenti trattati durante l'incontro al Salone del Libro. Hanno dialogato con la scrittrice la giornalista Manuela Banfo, Maria Paola Azzario Chiesa, Presidente dei centri UNESCO e la Presidente della consulta delle elette del Consiglio regionale del Piemonte. I due aspetti fondamentali per ristrutturare, mandare avanti e sviluppare non solo il mondo arabo ma anche l'Europa e tutti i paesi sono l'istruzione e la cultura. L'educazione, l'istruzione e la cultura. Abbiamo assistito al fatto che laddove non c'è l'istruzione necessaria per appropriarsi della cultura e della conoscenza, per tutti non ha senso perché solo questo può aiutare ad aprire la propria mente e a comprendere la cultura nella sua essenza, nella sua profondità come l'arte e come altre discipline. Grazie.